sono condominziano cristofano anche oggi buongiorno buongiorno come stai bene com'è il caffè è buono ora del caffè si viene da napoli questo ha proprio cioè deve essere preciso di napoli se no non lo bevi no no ma infatti perché poi il caffè è una brodaglia quindi almeno che sia la migliore cosa possibile bene bene diciamo che è abbastanza però taglia come come stai bene beato te io sono un rottame come vai ma perché faccio è tutta colpa mia intanto no come dici sempre tu se se uno se le cerca poi ne spolamentare quindi è sempre colpa mia ciao ai per albi intanto ti invito dom a leggere i commenti in chat così diventi più interactive e poi invito anche quelli della chat se vogliono fare delle domande su qualsiasi cosa ma proprio qualsiasi giusto che ci frega a noi cioè tu che che novità ci mancherebbe che non dai del tu perché le altre volte davide lei non me ne sono accorto se no mi sarei offeso se ti offene perché fa invecchia un po troppo direi una domanda di rito che ti farò sempre quindi le prossime volte arrivi più preparato è hai visto qualche bel film in questi giorni o in questi giorni no perché sto ero ero impegnato con il teatro e bei film poi ultimamente anche comunque no perché non ne fanno quindi dignitosi diciamo quindi dignitosi facciamo riformula domanda no se no c'è quella di riserva c'è qualche film che hai in programma magari su una piattaforma al cinema insomma che in programma di vedere no guarda di recente ho visto se vogliamo rimanere vagamente nel tema diciamo orrorifico perché regista ci si è come si dice dedicato che rodoroschi ho visto finalmente poesia senza fine che volevo vedere da molto tempo e perché in italia praticamente non sono riuscito a vederlo quando quando uscì al cinema e poi quando uscì in dvd insomma era già periodo cori del quindi io l'ho trasferito e far arrivare dvd qua insomma è un po complicato finalmente sono riuscito a trovare la versione spagnola e per chi non lo ha visto insomma lo consiglio è un jodoroschi un poco minore rispetto rispetto ad altri alla potenza di altri film tipo per esempio santa sangre però insomma c'è tutta la sua poetica c'è tutta la sua forza c'è un bellissimo messaggio quindi quello è un film che sicuramente consiglio di vedere anche se non è insomma un horror però c'è c'è sempre questo mondo un po suo e in alcuni punti mi ha ricordato anche il felline di giulietta degli spiriti devo dire si è molto autobiografico perché c'è lui che fa se stesso e santa sangre lo lo consideri un horror è un po un misto di cose no beh c'è c'è dell'horror sicuramente anche perché l'ha prodotto poi salvatore argento quindi insomma diciamo che che c'è sicuramente una componente nella scelta anche musicale nell'abbondanza di sangue non è chiaramente sempre un film definibile dentro preciso filone però insomma sicuramente non è non è la parte horrorifica la sua la sua forza però diciamo che c'è sicuramente ci sono varie scene che richiamano insomma lo splatter lo splatter argentiano addirittura l'omicidio quello col coltello esatto esatto io volevo farti notare come la mia chat può essere anche molto giovane perché l'ora è appena scritto so che andare via appena è scritto è brutto ma devo andare a fare i compiti quindi c'è questo ti fa capire quanto possiamo arrivare anche a giovani a nuove generazioni e del perché champagne mi vuole dare lei insomma giustamente no ma champagne non è così giovane cioè giovane ma rispetto a noi però non è così giovane e allora perdoniamo poi un altro film invece horror che ho visto di recente che devo dire invece mi è piaciuto è hell racer di hulu non è un nuovo ma che il lavoro non è questo il nuovo e devo dire che l'ha sorpreso in senso positivo a me è piaciuto lo colloco direttamente al secondo posto diciamo al primo mettiamo il primo primo che mento a cavolo proprio per cui una bella posizione sì sì perché allora meta dal due in poi onestamente non è mai piaciuto diciamo che il secondo è un remake del primo cioè un po un riciclo del primo cioè semplicemente nel primo risvegliamo lui nel secondo risveglia la storia produttiva non me la ricordo però è un po come un po come in halloween no c'è famo altri soldi no diciamo il 2 regge ancora perché mantiene lo spirito del primo ma ne è una copia carbone al femminile che ce lo potevamo anche un po risparmiare però insomma diciamo che c'è la sua dignità però niente di che dal 3 in poi cade nel ridicolo perché sti sti demoni sono diventati un'espressione proprio delle idee più trash che ci potevano stare tra l'altro in produzioni molto scadenti cioè nel senso se i primi due film hanno avuto una produzione comunque economicamente discreta e anche una production design buona dagli effetti speciali la fotografia eccetera dal 3 in poi iniziamo a cadere proprio nel patetico anche proprio con effettacci scadenti idee proprio che non si capisce perché l'hanno prodotte se non per abbinare diciamo che il 5 è un buon perché spesso succede nel cinema questa cosa cioè c'è uno script magari buono viene modificato per farlo rientrare in un qualcosa che possa far soldi quindi secondo me il 5 nasceva come un noir ma parlami di questo nuovo perché tutti mi chiedono io non l'ho ancora visto allora almeno dici tu cosa c'è di bello guarda per essere una produzione soprattutto televisiva di un canale streaming innanzitutto è incredibilmente pieno di sangue e violento questa cosa va molto sorpreso perché l'ultima volta che ho visto una roba del genere la fece netflix con babysitter che un altro film che io consiglio molto mi è piaciuto moltissimo il primo che è proprio un omaggio agli horror anni 80 sgangherato è un horror comedy quindi però ha un tasso di splatter allucinante tra l'altro con effetti pratical non con con digitale quindi ecco diciamo che da quei tempi quindi parliamo di un già un quattro anni che non si vedeva una produzione televisiva che se ne potesse appunto delle regole televisive quindi insomma questo eraser devo dire che è molto sanguinoso abbastanza cattivo a questi queste regole dell'inclusività quindi c'è la protagonista è giovane madrugata e anche un po sessuomane il fratello è gay e sta con il compagno che comunque nero l'hai trovata forzata tutta la cosa diciamo che c'è c'è questa c'è perché ci la devono mettere diciamo questa componente di inclusività però ecco non pesa cioè nel senso questo il fatto che il fratello sia gay che che il fidanzato del fratello sia nero che l'amica singola può anche succedere dico io non è che sì però è buttata proprio lì cioè ecco diciamo non è non è forzata come in altre situazioni quindi questo non mi ha dato fastidio la cosa che l'unica cosa che non mi è piaciuta ciao chris l'unica cosa che a me non è piaciuta anche se è piaciuta la scatola questa scatola che è del lamento che cambia forma e stavolta la vediamo evolversi in sette configurazioni praticamente l'unica cosa che non mi piace che è bella l'idea che ti ferisci mentre la usi perché praticamente escono fuori lame cose punte che ti feriscono quindi è quasi a voler dire che insomma se vuoi andare avanti devi 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 desiderarlo veramente no quindi questa come idea è carina però il fatto che diventa se non vorrei fare spoiler però diciamo che la scatola diventa il mezzo che chi la usa è il mezzo di qualcun altro e questo perde molto il senso originale cioè nel senso originale del primo film e del libro chi usa la scatola è perché la sta usando lui per creare questa connessione con i scenobiti non è in mezzo di una terza persona e questa cosa l'ho trovata onestamente un po c'è per chi amante per chi vede il film per la prima volta gli può anche piacere per chi è più un po più fanatico della saga originale diciamo che è una deviazione che tra l'altro mi hai ricordato parlando di il raise e i bar che abbiamo fatto un discorso su diciamo un po l'ignoranza del pubblico dietro alle produzioni ai film no fatto che si parla senza sapere no tutta una serie di cose e mi è venuto in mente non so se ricordi event horizon il film fantasy c'è una scena di infernale dentro quel film che fu diciamo etichettata come una scopiazzatura di eraser perché aveva queste e io facendo poi la recensione mi sono documentato ho scoperto effettivamente assomiglia delle cose ho scoperto che il regista con su c'è che chiamò proprio clive barker per fare quella scena quindi in realtà c'è quello che viene etichettato come una cosa negativa c'è a tu esco pezzetera in realtà è una chicca perché aggiunge proprio un pezzettino di idea di stile creato proprio da clive barker diciamo che si leggono tante si è come sarebbe come dire che alfred hitchcock in io ti salverò ha voluto copiare i quadri di da lì nella sequenza onirica senza sapere che quella sequenza l'ha realizzata insieme a salvador da lì da cioè le anche costruite con il suo team no da lì questa cosa per esempio ho letto addirittura spesso tipo a quello ha copiato da lì argento in questo film si copia lì argento e poi sono film per esempio che sono usciti molto prima dei film di argento per esempio quindi ha copiato bava ma guarda su questa cosa su questa cosa io mi sono sempre scannato con i fan di bala che non so se ma ma infatti io spero che ci siano scusami non di bava non di bava di argento spero che ci siano fan di bava per quanto gli argentiani neghino che dario argento abbia copiato mario bava cioè io rimango dell'opinione che non è che lo ha copiato lo ha plagiato in una maniera allucinante sotto il punto di vista formale poi chiaramente ha espanso la 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 il discorso violenza eccetera eccetera ma le luci nei film di argento le modalità alcuni delitti se pensiamo per esempio la vasca da bagno cioè sì ci sono dei modus operandi che sono comunque presi pari partemente ispirato si potrebbe anche per essere generosi sì e questa cosa di negare sempre le ispirazioni di altri cioè non è che che è negativo ricordiamoci che per esempio federico fellini e quindi non è che stiamo parlando dell'ultimo degli strozzi copiò mario bava per la bambina con la palla che appare in toby dammit cioè non è che mario bava lo ha aiutato o o ha partecipato a toby dammit fellini vide operazione paura e riprese quella figura della bambina per utilizzarla come immagine del demonio in toby dammit e c'è un racconto che fecero di quando ci fu la prima mario bava era lì e parlò con giulietta masina perché si disse molto addolorato del non essere neanche citato e la masina gli rispose sai come federico no a volte è così quindi voglio dire le copie le fanno anche grandi o se addirittura vogliamo abbiamo parlato anche di De Palma che comunque ha assorbito tantissimo però anche aggiunto De Palma ha omaggiato per esempio facendo una omaggiato copiato chi lo sa diciamo omaggiato aspetta quello che in inglese si chiama il caso dell'iris in italia si chiama quelle strane gocce di sangue sul corpo di jennifer con di vg fennec di martino da no non è di martino di carni ma la scena dell'omicidio nell'ascensore di questo film è praticamente identica e questo nel look nel look l'ascensore lo stile come è vestita nancy allen è praticamente uguale all'omicidio che sta in vestito per uccidere quindi per quanto molti dicono De Palma si è ispirato mi ripeti il film hai detto gocce di sangue su perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di jennifer il titolo è lunghi c'era la volta dei titoli lunghissimi su italiani con il vg fennec di giuliano carnimeo che è un ottimo giallo tipico nello stile di quell'epoca carnimeo poi ci rega non si sa come ci ha regalato dopo quella roba tipo ratman che non si sa che gli ha preso però insomma diciamo che invece negli anni 70 faceva dei bei gialli e se tu vedi la scena dell'ascensore a livello anche registico cioè di stacchi di inquadrature ma anche proprio il look dei personaggi è proprio uguale a quella scena quindi io penso che sia un omaggio più che una più che una che un plagio perché c'è proprio c'è proprio una scelta anche scenografica e di vestiti che richiama fortemente quella scena poi c'è anche un io purtroppo una memoria intanto che cerchi di ricordare c'è questa cosa che forse l'avevamo detto l'altra volta che se sei di tarantino che lo dichiara che ha copiato tutto diventi automaticamente un maestro se invece non dici niente sei uno che cioè lui in fronte a me la furbizia sta nel fatto di andare in giro a strillare io ho copiato questo copiato quello ma sai il ma lui non è che poi tarantino copia diciamo che anche lì assorbe ripropone a modo suo però ecco a una conoscenza del cinema italiano che bisogna dire molto più alta di quella di tanti fan di tanti critici e di tanti registi italiani questo bisogna mia sicuramente allora io purtroppo come dicevo non mi ricordo bene il titolo di questo film ma ci fu una una querelle che esiste data da tempo su sul fatto che davio argento ha accusato de palma di avergli copiato la scena finale di tenebre la dove c'è davanti una persona dietro sì perché dice che questo espediente per la prima volta si vide in tenebre in realtà un critico un critico italiano fece notare già molto tempo fa e questo io l'ho lessi sulla carta stampata quindi purtroppo non è facile trovare notizie online ma c'erano notizie online anche di questa cosa in realtà c'è un film degli anni 60 che si chiama tipo la tigre di qualcosa di fine anni 60 in cui c'è la stessa esatta lo stesso espediente cinematografico quindi sia argento che de palma non sono stati nei primi ne hanno scopiazzato perché c'è un film antecedente che ha questo stesso espediente narrativo quindi se de palma ha copiato argento argento ha copiato quest'altro film e chissà e chissà quanto si può andare indietro sì o semplicemente è un'idea che può venire anche da persone tra l'altro sì voglio dire non è il discorso delle prospettive non è che se l'ha inventata da reagento insomma quindi che tra l'altro poi ho trovato sempre di pessimo gusto perché questa cosa del reagento ce l'ha da sempre ce l'ha sempre avuta di stare sempre accusare o a criticare i colleghi ha massacrato fucci spentendosene solo poi quando fucci stava in fin di vita cercando di farsi perdonare tutto il male che gli ha fatto parlando sempre male alle spalle non solo cioè ricordiamoci che della gente un colosso il suo e il suo parlare un peso fucci era era sempre un piccolo era sempre una serie b e nelle interviste nelle nelle dichiarazioni e le cose essere sempre schiacciato da l'argento è sempre stato ma dentro l'ha fatto con tutti l'ha fatto anche con banzina quando banzina fece sotto il vestito ma che poi la metto su youtube non voglio dire voglio ricevere come si dice guarda argento noi ci siamo scontrati e dico noi non perché sono al plurale maestatis ma con un gruppetto di indipendenti poi se vuoi ti racconterò di questo festival di quel maier di qualche anno fa che è il festival del noire uno dei festival più importanti che ci sono in italia insomma eravamo ospiti con vari vari registi indipendenti e c'era l'ario argento padrino io se vuoi ti posso raccontare un po di siparietti di quello che accade lì e gli scontri che ci sono stati fatto sa che comunque insomma diciamo che che di minchiate ne ha dette e ce ne siamo comunque sempre dissociati ti ripeto io separo l'artista dalla dalla persona però ecco trovo che questo accanimento verso registi minori che comunque fanno qualcosa di buono quando quando uscì sotto il vestito niente argento rispose tornasse a fare la commedia vanzina che è una cosa orribile perché invece vanzina con sotto il vestito niente ha dimostrato che al di fuori della commedia cia sapeva proprio invece gestire una una pellicola che tra l'altro forse è l'unico film ricordo c'è veramente ricordato quello no tra l'altro perché gli altri sono proprio commediole da quattro soldi ma si vanzina sempre detto che faceva cinema per i soldi non gliene fregava la massa dell'arte quindi sembra quasi una cosa territoriale no cioè sì sì ma tra l'altro chiunque ama per esempio de palma come me e conosce quindi bene cinema di de palma e le musiche tutto quanto vanzina non ha assolutamente copiato argento in quel film ha omaggiato vestito e scusami omicidio a luci rosse di de palma la regia di vanzina investito per uccidere è totalmente depalmiana al punto che addirittura le gambe in solito non voglio dire sì 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 sotto il vestito niente le musiche di sotto il vestito niente anche solo di vino donaggio che plagia se stesso in vicino luci rosse quindi non era assolutamente un omaggio argentiano era un omaggio a de palma totalmente totalmente e agente e ha fatto un ottimo ottimi incassi ha fatto grande successo e argento gli ha roduto parecchio come quando gli rodeva di dei film di fulci fulci con zombie 2 ha fatto uno dei pilastri dell'horror di allontanandosi totalmente se non c'era lo zombie argentiano che poi ricordiamoci lo zombie argentiano non esiste nel senso che argento ha preso un film già fatto da nella roma è dato lo ha rimontato di musicato ripresentato quindi gli ha dato questo grande lancio ma in realtà non è che è un il prodotto di di romero era anche abbastanza differente oggi si trovano blu ray con entrambi le versioni quindi voglio dire anche lì diciamo che lui ha rimanipolato l'opera di un altro e fulci si si è aggiunto al filone zombesco ma lo ha fatto in una maniera totalmente personale non c'entra niente il non c'è la critica sociale non c'è il centro commerciale non ci sono i biker c'è riandiamo nelle radici del voodoo addirittura quindi voglio dire ha fatto proprio una roba sua come molti film cannibalistici che hanno seguito l'onda nessuno ha accusato l'ensi di mettersi sulla coda di biodato viceversa perché non sa ancora che rito bene o male gli ha fatto il primo e tutti quelli che ne sono venuti dopo non c'è stata questa guerra ma questa guerra l'ha sempre fatta argento che quando c'era un buon prodotto ha sempre sparlato per smontarvi mi ricordo un'intervista che fece argento quando già fulci stava male stava sul viale del tramonto questa intervista si trova su youtube quindi non è che sono io a dire cose negative gli chiedono che cosa salverebbe dei film di fulci se c'è qualcosa che gli piace lui risponde sì lì film con franco e ciccio sono molto belli se sei incazzato un po e ti è risalito qualche c'è perché c'è una battaglia da anni su questa cosa sì ma non si non si fa cioè non si fa perché hai minimizzato decenni di storia del cinema neutralizzando in una parola cioè quindi sì film con franco e ciccio di fulci sono buoni l'unica roba buona che ha fatto e 7 no del nero e lo squartatore di new york e la villa accanto al cimitero l'aldilà ma di che stavo a parlare a dare un po di rispetto veramente purtroppo oggetto ce l'ha sempre lo copiano tutti lo copiano tutti e tutti sono inferiori a lui volevo volevo così ti faccio calmare volevo rispondere la champagne che mi dice chiedi a domiziano di no no lo leggo lo leggo ma non so chi è già no ma ti spiego io voglio invitare anche champagne ad alzare un po il livello cioè ma secondo te possiamo chiedergli cosa cosa ne pensa di un signor nessuno che commenta sul web che suspiria non è un bel film cioè il fatto è che io stando tanto su suspiria quello di argento stando tanto sul web chiaramente arrivano anche dei content per ridere per divertirsi no però ecco questo mi apre mi apre un tema no perché questo ragazzo qua che c'ha 70 views va in giro a dissare i film no quindi ha fatto un video dove diss a praticamente tutti i film più più diciamo consolidati come come capolavori e cult dell'horror e ieri parlavo del fatto di che chi secondo me chi non sa non sa parlare di cinema trova più facile cercare di fare il provocatore andare a dire delle cose aberranti come appunto che grandi film non sono grandi sì diciamo che è molto più facile allora il discorso qual è allora io mi mi tengo un po aggiornato su quello che accade in italia non vivendo in italia ogni tanto mi tengo aggiornato e faccio tipo ultime notizie praticamente a questo perché ieri stavo cercando news in italia e bisogna dire che evidentemente per google è un tema molto sentito è il grande fratello perché io insomma cercavo cercava aggiornamenti in generale anche sulla politica e mi sono uscite un sacco di news sul grande fratello quindi sono sono aggiornatissimo su quello che accade nella casa e leggevo che appunto una notizia incredibile giustin matera si scaglia contro beatrice luzzi praticamente che sti cazzi diremmo entrambi però stavo stavo riflettendo su questa cosa cioè chi è giustin matera praticamente nessuno era la moglie finta di di paolo limiti ha cercato di fare l'attrice ha cercato di fare la cantante è stata forse per un po balletta alla fine non è stata niente beatrice luzzi per un periodo è stata convivere una delle delle protagoniste delle soppopere italiane tra i più famose al punto che addirittura era più famosa di madonna per un periodo in italia perché ma giustin matera adesso si scaglia contro beatrice luzzi e beatrice luzzi sta al top di una situazione e se io vado a parlare male a dire la mia automaticamente e infatti questo sta succedendo i giornali come il messaggero riporta questa notizia cioè io volevo sapete il governo signor nessuno parla di personaggio famoso poi la allora si sposta allora se io se io faccio una recensione su un film indipendente o mi accodo a dire che che il raiser 2 è un bel film finisce la giusto se io invece dico sui miei social shining di kubrick è una merda perché così così con la si crea un polverone perché perché io abbino subito il mio nome a film molto importante a un argomento molto discusso quindi che gira 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 e però crea una polemica perché quindi ravvivo questa cosa cioè dire che è un film cult metropolis di fritz lang è una merda chiaramente nel bene o nel male mi espone ma qual è il problema il problema è che quando uno quando c'è una voce fuori dal coro così troverai sempre quelli che si accodano per esempio un piccolo gruppo di sostenitori del sì perché vorrebbero essere come lui o vorrebbero dire come io ho letto due giorni fa proprio stavo parlando con un amico perché mi è capitato un post aspetta ce l'ho perché io l'ho inviato come screen intanto rispondo rispondo un attimo a champagne che mi dice no gonze un creato no champagne non è che ogni persona che apre un canale youtube diventa automaticamente un creato perché se no chiunque secondo me lo diventi costruendoti una reputazione quindi lavorando e sono le persone che ti rendono quello lì che non aveva assolutamente seguito sta cercando quello del del video sta cercando di crearsi un seguito come dice domiziano di persone che vorrebbero parlare male a destra manca e andare contro ma non hanno il coraggio come lui di buttarsi nella mischia ma sarà una cosa tra l'altro la maggior parte di queste persone si nascondono nel senso che ha non hanno come me per esempio la faccia davanti il video il nome cognome reale cioè tu sai se vuoi trovarmi mi trovi c'è questo il punto invece questi personaggi spesso abbaiano tanto perché sono dietro al cancello apri il cancello silenzio di tomba ma sai io tra l'altro penso che si possa anche parlare parlare male male nel senso in termini negativi di un film perché giustamente io per esempio non amo particolarmente suspiria di dario argento cioè non è fra i miei film preferiti non lo trovo nemmeno tra i suoi film migliori a mio parere perché ha delle negatività cioè ha dei dei lati negativi che sono secondo me oggettivi e ne possiamo parlare cioè però in questi termini è un altro conto cioè se tu dire è merda non ha senso quel film è merda quel film è brutto quel film ha delle cose che funzionano tantissimo se no non sarebbe il film di successo che è come ha delle cose che per altri che hanno altri tipi di gusti non funzionano allora innanzitutto dobbiamo considerare una cosa che la fama calpe di argento è cresciuta molto esponenzialmente con gli anni per chi non è per visto che ci abbiamo un pubblico molto giovane bisogna ma in realtà in realtà sono pochi giovani e la media molto allora giovani quando argento era del argento ai suoi esordi ma non solo diciamo anche fino agli anni 80 la critica era molto contro i figli argento non è mai stato sannato come viene sannato adesso argento a livello di critica se andate a vedere le critiche dell'epoca qualcosa la trovate anche su wikipedia e veniva massacrato soprattutto a livello di sceneggiatura come dice per esempio mirella d'angelo nel mio documentario mirella d'angelo è la tilde di di tenebre quindi stiamo parlando già di un argento che era nel nel top della sua carriera lo racconta nel mio documentario quindi non è un segreto il suo agente non voleva che lei facesse il film con dario argento perché a livello culturale i suoi scritti erano considerati in serie z e adesso che l'è valutatissimo diciamo quindi diciamo che che ci sono argento ha sempre avuto dei problemi di scrittura per esempio non dimentichiamoci che suspilia nasceva come film team cioè doveva essere interpretato da giovanissime questa cosa poi per qualche motivo non è accaduto quindi queste giovanissime sono diventate donne abbastanza adulte direi perché non è che abbiamo persone sotto i 24 anni in quel film quindi diciamo che cominciano a essere ragazze alcune quasi donne come la protagonista non era non era proprio una ragazzina però hanno mantenuto i discorsi da bambine che facevano si fanno le linguacce si fanno le lì dispetti quella cosa serpente serpente che è un po imbarazzante cioè diciamo che a livello di scrittura richiedeva un adattamento dici beh sì sì poi che se la se la riscatta però vedi questa questa non è questo non è dire fa schifo questo è semplicemente far notare una cosa che secondo te poteva essere fatta in modo diverso per ovviamente per un mio gusto e anche per esempio ho odiato e questo l'odio proprio il finale non so se conosce fermi tutti scusa dobbiamo di nuovo ringraziare gioco che è arrivato con 39 persone ciao a tutti io sono il gonz questo è un canale di cinema e lui è domiziano cristoforo regista di cinema aurora indipendente estremo performers e tantissime altre cose stiamo parlando di dar argento scusami se ti ho interrotto tranquillo no dicevo non ho non ho non ha ancora questo finale del alla buster keaton che con la protagonista che ogni volta che sta scappando dalla scuola di danza insieme passa regolarmente davanti a una finestra la finestra sta per esplodere e lei fa questo e lo fa tre quattro volte nel finale c'è ogni volta che passa davanti a una finestra succede questo tic esplode la finestra diciamo una volta era pure abbastanza diciamo la seconda e beh l'ho trovata abbastanza ridicola come come messa in scena si guarda poi molti adesso hanno è diventata anche santa daria nicolodi rispondendo a chris parliamo male anche della nicolodi no poverino io personalmente non l'ho mai trovata sta grande attrice cioè diciamo che ha fatto una una presenza efficace nel film televisivo di bava della venere di hille l'ho trovata molto in parte in shock di mario bava ma mario bava grandissimo regista quindi sappiamo che un bravo regista può far recitare bene anche i cani cioè pensiamo a citto maselli che ha fatto recitare ornella muti quindi insomma voglio dire o ricci che ha fatto recitare teresa serena grandi in teresa insomma diciamo che in mano a bravi registi gli attori possono anche dare grandi sorprese come come in mano a pessimi registi grandi attori hanno fatto prove pessime però asia argento è brava dai se ti sto facendo un po il troll asia argento è brava asia argento è brava in la chiesa di soavi io lo dico sempre quando era piccola era brava quando era piccola era brava ma più che altro la diretta qualcun altro allora parliamoci parliamo di una cosa cioè torniamo un attimo da nicolodi ha fatto l'unico film di petri dove recita male dove fa il ruolo di una prostituta tra l'altro romana lei non è nell'uno nell'altro e si sente si vede purtroppo per fare la prostituta devi diventare una prostituta no almeno nel senso cosa e lei ne è molto lontana cioè purtroppo il monologo che fa nei film di petri è terribile e oggettivamente terribile se era un attrice così straordinaria come dicono tanti come mai ha lavorato solo nei film di terri argento cioè parliamone se sei come l'ha fatto solo l'attrice vero ha fatto anche la cioè ha collaborato anche alla creazione dei film no sì 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 ha lavorato anche nei film degli amici di terri argento cioè luigi cozzi eccetera eccetera però voglio dire è un po come la moglie di rock zombie tolto il fatto con bellissimo culo però sai ai ogni volta che sento parlare di sherry di sherry moon è un film di rock zombie a parte che è un film di rock zombie ma è un culo fantastico ho capito ragazzi aprite io non li fans a sta poraccia però levatecela dai film perché voglio dire se c'è un bel culo vai a fare i porno mostralo fai la modella fai la pubblicità le mutande roberta io sono uno di quelli che se c'è un paio di tette un culo così do un mezzo punto in più al film sono vittima di questo service che arriva dalle parti basse ovviamente una battuta però il nudo nei film è sempre c'è sempre stata la fenec veniva chiamata praticamente solo per quello e non solo lei insomma cioè in quasi tutti i film fulci compreso i primi gialli c'erano sempre questa componente non è quello il problema il problema che sherry moon non sa recitare e se fosse sta grande attrice come dicono tutti ma come mai nessun altro regista di fuori al di fuori di rob zombie la chiama cioè queste sono domande che uno si deve porre no sì se è così brava però c'è l'esclusiva non la vuole nessun altro anche perché magari in altri ruoli si creano dei team no tipo il montatore di di quel regista più o meno lavora sempre con quello però magari gli attori hanno bisogno ma non è vero il montatore che lavora sempre con uno fa anche 200 film però dico appunto ci sono anche dei team storici però l'attore ha bisogno di girare no cioè proprio di di andare ovunque nel c'è se no fai sempre la stessa cosa anche il sud alizio tim barton johnny depp ma non è che johnny depp ha fatto solo i film di tim barton nel frattempo faceva anche altre cose cioè la nicolodi per esempio ha sempre fatto solo quasi solo i film del marito da un certo periodo e da quando poi si sono separati i suoi ruoli si sono anche stranamente ridotti insomma quindi un po il costazzo del cinema cioè che ogni ogni moglie di costazzo ha fatto io c'è posto per te praticamente volevo farti spostare un po' l'argomento perché prima stavamo parlando delle recensioni e avevo questa curiosità no perché io comunque sono pochi anni che faccio questa cosa e vabbè con tutte le dovute critiche e odio da parte di tanti però mi chiedevo tu che il primo film che hai fatto penso risalga a prima che ci fosse internet o comunque che internet fosse no fosse così no ma che fosse così internet è arrivato vent'anni fa c'è il primo film l'ho fatto un pochino dopo no però però vent'anni fa non era così no vent'anni fa c'erano le connessioni con modem 5.6k diciamo che l'uso delle recensioni gruppi le pagine tutte queste cose qua non avevano quella tra la valente influenza o importanza quando io ho fatto il primo film era il 2008 e diciamo che facebook già esisteva però era un po' all'inizio proprio pranzo cioè non è che era all'inizio c'era myspace all'epoca che era molto più in voga di ma anche per il cinema c'era qualcosina qualcuno che si prese era molto più artistico di rispetto a facebook o uno ti potevi personalizzare la pagina cosa vuole cambiando sfondi cambiando addirittura utilizzando musica eccetera eccetera e ti creare una rete di contatti effettivamente molto efficace devo dire che io è proprio grazie a myspace che ho fatto il mio primo film perché il produttore lo conosco proprio di sopra quindi immagina di le connessioni artistiche che era un link che funzionava perché lì chiedi di adesso in realtà non funziona esatto mentre facebook che c'era si affacciava era un po' un'alternativa però sai c'era se c'era sempre un po' quella diffidenza poi da lì a pochi anni ci fu un cambio in cambio totale insomma di un ribaltamento diciamo che si usava molto di più i siti cioè le promo io ancora sono di questa opinione cioè nel senso a me delle recensioni di facebook frega fino a un certo punto lo uso per condividere lo uso per condividere lo uso per i contatti tuoi per fare promozione anche spicciola c'è per esempio che non so sta uscendo un film nei gruppi nelle cose si passa come condivisione di massa sapendo che arrivi a tanta gente di cui però magari di quei cento gliene frega due di quello di cui stai parlato quindi lascia il tempo che trova io ho sempre puntato sui siti nel senso siti storici come può essere un dread central un bloody disgusting un twitch film sono quella roba rimane anche nel tempo quindi se parla di te un sito si beh poi bloody disgusting fa milioni di views diciamolo si si però diciamo che poi rimane lì ecco diciamo che a me per esempio sotto questo punto di vista se chiude facebook io continuo a esistere nel web perché ci sono delle altri no vogliamo dirlo altri cappano purtroppo solo su facebook è troppo facile che gli amici ti parlano ti sparlano del lavoro che fai grazie per il follow ma rig quindi quello colgo la palla per riderci un po suo cioè se chiude c'è certa gente proprio sparita non voglio visto che stai leggendo un po di non voglio non voglio passare per quello che attacca la nicolò di a tutti i costi per esempio in inferno a me piace molto ripeto in shock di mario bava funziona benissimo bisogna essere oggettivi che la sua apparizione per esempio in terza madre oltre che tutto terza madre un disastro ma anche la sua apparizione abbastanza patetica come per esempio purtroppo è imbarazzante tutta la sua performance in fenomena c'è addirittura nella parte finale riesce a far recitar male anche gennifer connelly perché il loro la loro accoppiata nel finale è un crescendo di over acting che sfiora quasi la parodia cioè stanno stanno un è over acting è assolutamente over acting tra l'altro lei si è costruita un personaggio che è anche quasi sempre lo stesso nei film quindi difficile la vedi sempre molto molto ieratica molto formale che però lo riadatta quel tipo di personaggio che forse la rispecchia in in un sacco di altri film quindi non non vedi mai effettivamente una trasformazione eccessiva anche in questa sua compostezza che mantiene per esempio anche in pagatini horror che insomma non a caso è considerato un capolavoro del trash lo si deve anche alle performance attoriali insomma dove tutti sono fuori luogo quindi insomma voglio dire non è che dobbiamo per forza sempre tendere lancio io amo per esempio fulci è il regista che amo forse di più a livello nell'horror riconosco che fulci ha fatto dei film brutti cioè ci sono dei film di fulci che io trovo brutti ridicoli da la casa nel tempo a sodomas ghost demonia o il gatto nel cervello che però ce li hai però ce li hai perché comunque qualcosa di buono secondo me alcuni questi non li ho cercano perché non mi piacciono c'è inutile che non stavi dicendo una inter sinfonica tra l'altro che io ho visto è un reboot ho fatto un reboot ufficiale scritto da antonio tentori che lo stesso sceneggiatore con il contributo di frizzi alle musiche quindi è un reboot ufficiale del gatto nel cervello ma perché l'ho fatto come l'ho sempre dichiarato perché a mio parere il gatto nel cervello ha un ottimo spunto ma è un bruttissimo film io non mi sarei mai permesso di rifare l'aldilà perché l'aldilà è un film perfetto e non mi posso non ti viene voglia di rifarlo no alla fine a parte non mi viene voglia ma sarebbe un suicidio mentre può piacere o non piacere io penso che un po' meglio di gatto nel cervello posso fare e a modo mio penso di averlo fatto chiaramente un film che si sposta in un'altra direzione è un reboot quindi non è un remake cioè prende quella storia e la riracconta in un'altra direzione mi confronto con un film dove il personaggio che hai messo in quel film lì si può dire oppure mi azzanni è un un tributo a Deliria o quel personaggio con questa testa non voglio spoilerare ma no in realtà non è un omaggio a Deliria diciamo che sì ci si ritrova però non è nato con quella idea lì non danza tanto per cominciare no era era l'idea di omaggiare questi assassini mascherati questo allora in realtà Nightmare Symphony che si ispira a Fucci omaggia tutto il cinema thriller italiano degli anni 70 e 80 quindi c'è un po' di argento questo l'abbiamo fatto in fase di scrittura con Antonio Tentori che tra l'altro è stato sceneggiatore appunto per Argento oltre che per Fucci anche per Bruno Mattei per Massacesi quindi insomma abbiamo abbiamo proprio infilato dentro il film tanti riferimenti proprio Antonio Tentori muore nel film omaggiando la morte era il tuo film incredibile muoiono tutti muoiono tutti quindi siamo stati tranquilli che muoiono tutti in quel film muore nella maniera in cui muore a mio amore nel tenebre ingozzato con la sceneggiatura con la sua stessa sceneggiatura quello è chiaramente un tributo lì c'è quindi c'è un omaggio ad Aria Argento ci sono omaggi appunto a Fucci ci sono omaggi a Martino quindi vuole omaggiare un po' tutto il cinema degli anni 70 quindi anche il filone dei gialli con gli animali no? il gatto a nove code la lingua di fuoco la lingua di fuoco quindi diciamo la testa di animale era un po' l'idea di di questi serial killer animaleschi di quel periodo là ecco però non era proprio un riferimento diretto a Deliria anche perché diciamo che io per come sono fatto io quando voglio fare una citazione la voglio fare molto bene quella maschera di Deliria è una maschera eccezionale per come è fatta e la nostra no cioè nel senso la nostra è una maschera molto semplice se io mi volevo mettere a citare il Barbagiani di Deliria ecco avrei fatto fare una maschera apposta che eguagliasse o superasse la manifattura di quell'altra sembrare se no proprio la brutta copia ecco non ha senso fare il paragone quindi l'idea non era quella diciamo che se mi metto in competizione tra virgolette mi piace uscirne bene questo sarebbe stato con una maschera di plastica non avrebbe avuto senso insomma prima abbiamo parlato un po' così pizzichiando un po' questi grandi del cinema horror dell'essere un po' così fare le cose in famiglia no? sì allora io ho questo tema ultimamente che torna in live che sono i cosiddetti figli di papà perché? arriva il film di Zelda Williams che è la figlia di Robbie Williams ed è un film che si chiama Luisa Frankenstein quindi un rifacimento di Frankenstein in versione horror comedy poi arriva questo film che si chiama Mimi il principe delle tenebre di Brando De Sica poi arriva cioè e ci sono ma guarda ti dico no io voglio finiscono la domanda voglio chiederti che cosa c'è eh già l'ho capito siccome vuoi tiro fuori anche Sofia Coppola che siamo d'accordo che comunque è brava no? oppure è il figlio di David Cronenberg anche lui è piuttosto bravo per cui non voglio fare un discorso ai figli però cosa provi tu quando ci sono queste cose? cioè perché per me sono sentimenti contrastanti perché da una parte penso che alla fine uno non ha colpe se nasce in una famiglia di artisti famosi e ha la strada un po' più spianata però poi dopo penso però gli altri invece che non hanno nessun aiuto nessuna sovvenzione cioè un po' l'ingiustizia la vivo no? questa ingiustizia qua ma guarda questo ne ho parlato proprio in un post qualche settimana fa a me personalmente non cambia niente non provo invidia non provo neanche dolore allora mettiamo diciamo che innanzitutto fra i figli d'arte americani e i figli d'arte italiani c'è un abisso questo abisso per esempio lo vediamo adesso parte un altro dissing allora l'abisso lo vediamo quando Dario Argento va a fare Master of Horror Dario Argento che ti fa la terza madre o giallo e stiamo parlando quindi di film oggettivamente fallimentari sotto tutti i punti di vista va a fare Master of Horror e ti tira fuori un pelz che è un gioiellino perché? perché ti viene dato una gabbia dentro la quale tu più di tanto non ti puoi sbracciare e questa gabbia è fatta da tutti i professionisti quindi hai direttore della fotografia, effettista cioè lui si è potuto portare mi sembra solo effetti e musiche non ha potuto spaziare più di tanto no? ecco quindi ti mettono dentro una gabbia di professionismo tale che il tuo prodotto esce comunque bene e bisogna riconoscere ma oltre la gabbia possiamo chiamarlo anche supporto anche un supporto economico tra l'altro che non è indifferente però voglio dire vogliamo essere oggettivi e riconoscere che pelz per esempio Jennifer già è più scadente a livello di scrittura però insomma mettiamo che pelz è migliore di tutta la produzione degli ultimi dieci anni di Dario Argento questo è oggettivo perché Dario Argento negli ultimi anni ci ha regalato un film più brutto degli altri da Occhiali Neri che poi questo è il tema di un'intera live che faremo dove ti chiederò perché, cioè come si è arrivati da bei film a film brutti però non adesso, torniamo sul discorso del cioè che guarda io non voglio farvi pensare che sono quindi diciamo che un figlio d'arte mettiamo un figlio d'arte, un figlio di Krovenberg che chiaramente non solo è più agevolato chiaramente ma è agevolato perché chissà magari veramente, comunque tu vivi con un, come si dice, con un genio e qualcosa di riflesso in qualche modo la devi pure imparare, no? e poi hai un nome che frutta quindi il produttore chiaramente a chi dò i soldi? a Domiziano Cristoforo che ha un bel progetto? o al figlio di Krovenberg che ha un progettino che però lo posso migliorare e mi porta pubblico? lo diamo al figlio di Krovenberg chiaramente perché mi tira già tutto quindi dissing anche al figlio di Krovenberg? no, 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 sto scherzando sto solo cercando di portare visibilità a queste live sto scherzando no, dico, quindi ecco, diciamo che chiaramente è un investimento più sicuro per un produttore, no? hai già un bacino di pubblico di curiosi che ti si avvicinano però appunto diciamo che in America c'è una macchina, Scitema, che funziona cioè il film a basso costo in America non esiste sotto di un milione di euro quindi poi lì funziona ti viene di mitoso perfino il debutto della figlia di Lynch che è quell'orrore di Boxing Elena alla fine è un prodotto che funziona no, perché lo trovo perché è perverso allora mi piaceva tutta la cosa è un film orribile mi ricordo che l'ho visto proprio quando uscì era recitato anche male, no? sì, che brutto molto televisivo sembra però funziona alla fine cioè che vuoi dire è un filmetto è un filmetto però ha una fotografia dignitosa ha un cast dignitoso cioè voglio dire non è che puoi dire ennetta poi che non sia un capolavoro siamo tutti d'accordo non è David Lynch lei per esempio del padre ha preso qualche niente però ecco invece passiamo all'Italia se in Italia succede questo ecco se da una parte abbiamo che ti devo dire la figlia di Lynch che fa Boxing Elena il paragone nostrano per esempio potrebbe essere la C'Argento che ci fa Scarlett Diva che insomma perché se Boxing Elena va merda parliamo allora di Scarlett Diva recitato male scritto peggio fotografato con le luci di casa così cioè parliamone no? poi uno può amare il personaggio quanto uno vuole però resta il fatto che è quello che è quindi insomma anche lì quello che tiriamo fuori qui è sempre un pochino di qualità più bassa insomma certo mentre mentre Ingannevole il cuore di Asia Argento è un buon film quindi questo per non dire sempre che passa il tempo le cose possono cambiare uno può dimostrare però ecco diciamo che il debutto debuti a confronto ecco un debutto qualsiasi americano è quasi sempre meglio di un di una spintone che passa in Italia poi sicuramente ci sono personaggi più meritevoli cioè io ho sempre detto se Asia Argento avesse avuto un altro cognome avesse fatto un percorso diverso cioè di casting come devono fare tante altre attrici italiane avrebbe lavorato così tanto ugualmente io credo di no in tutta onestà credo di no però il cognome Argento sicuramente aiuta il cognome Argento sicuramente aiuta ad averla in un film aiuta le vendite quindi chiaramente uno la produzione dice si è un po' meno brava però ti porta gente e questo in un film lo devi considerare che è importante è innegabile che ci sono attrici anche più sconosciute migliori di lei questo non si può non si può negare poi in Italia escono tanti personaggi dalla figlia di Ornella Muti che una volta ha provato a fare la modella una volta ha provato a fare la cantante poi se poi è diventata modella di nudo poi è diventata non si sa che influencer l'ultima spiaggia di tutti è l'influencer o se vogliamo andare un po' più indietro nel tempo perché l'influencer non si sa bene che cosa sa fare esatto o se vogliamo andare più indietro nel tempo la Mussolini stessa no? Alessandra che nasce come cantante poi come attrice sexy poi si ricicla in politica adesso come ballerina alla venerante età di 60 anni quindi diciamo che ci sono dei personaggi che sentono un po' il peso di questo cognome e devono a tutti i costi fare spettacolo quando invece ci sarebbero tanti bei negozi che cercano commessi e commesse no? è vero no allora io ti dico ti parlo da uno che ha lavorato con figli d'arte io ho lavorato con Francesco Venditti in Museum of Wonders per esempio e anche con Gian Piero Ingrassia quindi figlio di Venditti figlio di Ingrassia in Museum of Wonders e ti devo dire che entrambi fanno un ottimo lavoro quindi beh ma anche la carriera di Ingrassia mi sembra che dica qualcosa di diverso cioè lui ha scelto di fare più teatro perché gli piace si capisce? Gian Piero ha scelto il teatro non è l'ossessione perché se fai teatro lo sai ha scelto il teatro ha scelto il musical tra l'altro perché è cantante è attore è ancora più difficile e nel mio film fa una donna quando molta gente vede in Museum of Wonders e mi chiede ma Gian Piero Ingrassia qual era? Gian Piero Ingrassia fa una donna cioè se non fa la parodia di una donna fa esattamente proprio il ruolo di una cartomante e talmente bravo che non lo no della Bellucci non ne parliamo allora aspetta no parliamo della Bellucci grazie Giorgio per la donazione che tirano in ballo Monica Bellucci allora la colpa di Monica Bellucci è quella di essere innanzitutto bellissima sebbene addirittura è la mia stessa colpa tra l'altro esatto anche la mia si legge spesso online addirittura bella quella e vabbè stendiamo un velo piedoso sul rosicamento di certe persone però allora la Bellucci era bellissima innanzitutto è tuttora molto bella non dimentichiamo una cosa nasce come modella è una foto modella e modella quindi il suo talento era naturale aiutato poi dal trucco dal portamento dalle cose tra l'altro Monica Bellucci è una donna di grande cultura non la riduciamo solo ad immagine e però quello faceva la modella il problema è di chi ha voluto farla diventare attrice ah com'è bella mettiamola in un film allora appunto in silenzio Malena di Tornatore l'intelligenza di Tornatore qual è stata? quella di prendere una modella per fare la donna bella nel suo film che non parla Malena la Bellucci è perfetta perché è sfruttata nella maniera più intelligente che un regista poteva utilizzarla e infatti è intelligente risulta anche molto bene in colpo gobo a Milano di Vanzina perché anche Vanzina è una persona intelligente gli serviva la buona ha preso una top model e gli ha fatto fare la modella purina doppiata e funziona benissimo la Bellucci che firma proprio la voce non riesce non lo so io non so come definire la sensazione che mi dà ma mi toglie proprio la sospensione dell'incredulità all'istante un po' come Asia Argento c'è quel tono in Matrix 2 dove non si doppia in Matrix ma già Matrix 2 non è sto gran filmone ma l'unica battuta che dice lei crolla tutto il film cioè lei lei una parola dice nel senso che anche nel film si rendono conto di essere dentro una matrice tutti i grandi ma non può essere la realtà ti smonta il Matrix quando arriva e ti dice basciami come basci lei è finito il film è finito il film no? vabbè anche in Dracula di Coppola voglio più imitazioni eh per favore perché sono arricchiscono queste live ti vengono bene tra l'altro visto che nominano Dracula di Coppola vabbè Dracula di Coppola ovviamente non parla lei fa la bella vampira che non si può dire che non le viene bene una di quelle una di quelle tre era un'altra attrice italiana di cui adesso non mi viene il nome è che io io ho lavorato anche in produzione cioè come in produzione cioè dietro le quinte per 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 produzioni grandi eh lei va andando a fare un provino eh per un film una delle tre vampira allora una era Domiziana Giordano se non erro eh l'altra era Monica Bellucci e la terza non mi viene adesso il nome lo possiamo googlare e lei vengono a fare un provino e ti dico eh in quel provino tra l'altro venne anche a farlo Beatrice Luzzi era il periodo di vivere quindi diciamo che abbiamo visto delle cose assurde in quei provini che ancora ce le raccontiamo per ridere e arriva questa che che faceva appunto sti film action in America piccole parti così con tre pagine di copione a memoria che si prendeva le pause per rispondere che ti guardava negli occhi cioè e tu vedi il metodo americano l'actor studio il livello degli attori che hanno studiato all'estero il livello dei nostri il livello dei nostri che tu hai il provino è tipo che ore sono le cinque ah grazie no allora c'è quello che ti dà la battuta che ore sono le cinque questi sono i provini italiani per la maggior parte cioè sanno a memoria la battuta e te la dicono così cioè questa per dirti sai che ore sono le cinque cioè guardo l'ora assimilo la domanda ti guardo ti rispondo come sarebbe nella vita no i tuoi tempi le pause sì sì è un altro altro livello ragazzi veramente bisogna cambiare argomento però c'è da dire che è irreversibile nella scena dello stupro insomma funziona sì sì ma anche lì insomma sì sì ma diciamo lei purtroppo non parla urla della verità che è brutto da dire sì ma sai non è ti ripeto non è un'attrice il problema sempre di chi ci mette i personaggi a fare c'erano attrici migliori per fare quel ruolo belle sicuramente sì ho l'idea che a un certo punto lei era veramente spaventata e quindi più che recitare praticamente è stata travolta dall'emozione di paura e si è lasciata andare in quella cosa lì cioè è troppo troppo realistica ma sicuramente è stata anche diretta bene cioè stiamo parlando di un regista di un improvvisato ti ripeto sono tante le situazioni che stanno dietro i film il problema ti ripeto è sempre quello non c'era una Charlize Theron che poteva fare la sua parte in Matrix 2 ovviamente sì è brava tra l'altro è appunto bella e brava evidentemente alla Theron non viene fregata una mazza o comunque loro preferivano avere la modella tutto lì però la colpa non è di lei cioè nel senso se a me dessero dei soldi perché sono nato così vado a fare quello che vuoi cioè perché lei dovrebbe dire no io sono modella scusate mi madre se dove non lo venga a fare perché non so recitare sono solo modella e sti cazzi cioè ci vado pure io per tutti i soldi che te danno cioè su questo non bisogna essere ipochi il problema è magari più chi la chiama che chi accetta una proposta di lavoro sì allora Bonzo mi sa che no io sto parlando allora di Van Helsing Barzo Barzo sì Barzo non non di aspetta ora te lo dico Van Helsing vado a googlare mi ricordano che in Doberman fa la muta tra l'altro sì ma è normale cioè quella è una maniera gli scrivono i personaggi apposta guarda questa gli han tagliato la lingua ha perso la voce da piccola gli scrivono poi i personaggi apposta ah ok era Van Helsing e l'attrice era Silvia Colloca che poi nel cinema abbiamo fatto quindi l'apocalisse delle scimmie di Romano Scavolini e stranamente ha fatto poco in Italia poi si è fermata nel 2021 ha fatto un po' di televisione ma sempre in America comunque sì Silvia Colloca e ho un ricordo bellissimo di lei come attrice perché era spettacolare e purtroppo ha fatto poco tornando diciamo alla Bellucci ripeto per me il problema è di chi ce li mette certi personaggi a fare determinate cose perché una chance è giusto darla a chiunque per esempio ho visto degli spezzoni di film del film della Cortellesi e sembra per esempio molto interessante chiaramente la Cortellesi ha avuto una via preferenziale rispetto ad altri registi che presentano dei progetti perché nasce come attrice come comica come cantante e riesce ad avere i fondi per fare un'opera prima però effettivamente non sembra assolutamente male questo film quindi alla fine perché no c'è un tema che mi hai fatto venire in mente perché abbiamo parlato del fatto che comunque lei è bella ma anche la Cortellesi è bella comunque non è proprio Monica Vitti era bellissima e pure quello che mi è venuto in mente è che invece nei tuoi film la bellezza è qualcosa di non così diciamo allineato con quello che è lo standard cioè nel senso che secondo me tu non non scegli gli attori in base a quanto sono belli come fa il cinema comunemente hai scelto attori comunque anche che possono essere con dei fisici normalissimi un aspetto molto beh dipende dipende nel senso che io sono sempre stato dell'opinione rispetto per esempio al cinema indipendente no? quello che dicevamo l'altra volta il cinema indipendente non è un cinema sfigato o un cinema amatoriale è un cinema che vuole essere indipendente dall'industria e quindi muoversi su altri discorsi io vedo spesso nei film indipendenti dei miei colleghi e questo lo dico proprio senza problemi quasi tutti per esempio nei ruoli sexy o nei ruoli della bella ci mettono la moglie la fidanzata o le amiche che sono oggettivamente tutto tranne delle bellezze poi che Barbara Streisand faccia la sexy nei film come per esempio il principe delle maree che faccia perdere la testa a tutti ma Barbara Streisand oltre che essere un'attrice è anche una sexy nella sua bruttezza aveva il suo fascino ecco qui parliamo di gente che non ha né fascino né capacità attoriali né storia né niente semplicemente sono la moglie la fidanzata l'amica del regista e vengo tirata dentro a fare per esempio un ruolo sexy ecco io su questo sono sempre stato contrario io nei miei film non ho mai messo amiche cioè nel senso quando avevo bisogno della sexy come per esempio in High Secret Nightmare che è un porno horror o Transparent Woman che è un giallo che omaggia i film di gialli degli anni 70 dove la componente doccia era fondamentale io ho preso la porno star Roberta Gemma non ho preso un'amica cioè ho messo da parte il denaro per potermi permettere quella che è una potenza non la conosco non la conosco nessuno non la conosce nessuno e non è la figlia di Giuliano Gemma mai sentita nominare soprattutto non è la figlia di Giuliano Gemma come molti pensavano tra l'altro all'inizio lei si chiamava Roberta Missoni ha dovuto cambiare nome perché Missoni gli ha fatto causa sì sì la Missoni come possono farti causa se è il tuo cognome no 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 era un nome d'arte chiaramente ah era d'arte ok sì non si chiama né Roberta né Gemma diciamo che è il nome d'arte da porno star diciamo che sai c'era Sofia Gucci no c'era erano finiti gli stilisti e allora ha preso no ha beccato l'unico che gli ha un po' roduto non gli ha fatto causa gli ha chiesto se poteva cambiare cognome e poi Missoni è il meno porno degli stilisti secondo me no è un po' più bottonato no diciamo che si sono messi d'accordo non c'è stata una causa però mi ha fatto ridere questa cosa che pensate cioè Roberta era talmente popolare a quell'epoca specialmente che googlando Missoni chiaramente uscivano i suoi porno e non lo stilista e lo stilista si è risentito dicendo uè cioè qui ci stai levando gente quindi trovate non altro possibilmente lei molto carinamente si è cambiata nome e diventando Roberta Gemma e al di là di questo quindi all'epoca mi dicevano pure ah ma quindi hai lavorato con la figlia di Missoni quello che fa i vestiti io dicevo no io lavoro con quella che i vestiti si rileva che è un'altra e praticamente vabbè diciamo anche nel mio primo film House of Flash Mannequins la protagonista è Irena Hoffman che nel film precedente era la compagna vampira di di Christophe Lambert in Metamorphosis e nonché top model a Los Angeles nonché Miss Bulgaria in Bulgaria c'è il suo paese d'origine quindi quando mi servivano le belle io ho sempre puntato sulla bellezza oggettiva o anche come in film come Doll Syndrome bisogna dire che Tiziano Cella è statuario perché io volevo proprio un personaggio che contrastasse con quanto fa schifo poi il personaggio quindi mi piaceva l'idea che questo nudo fosse oggettivamente statuario abbinato poi a tutte le cose disgustose che invece questa persona fisicamente fa creare questo cortocircuito però ecco deve essere ragionato non sono una persona che mette la bella a caso il cinema mainstream soprattutto quello americano sono anni che per qualsiasi ruolo il gelataio sempre comunque persone belle cioè c'è un un po' questa tendenza però c'è una differenza che anche il modello americano anche l'attorino l'attorino americano bello bello recita bene bisogna dire di sì cioè se vogliamo tutte le critiche che vuoi anche perché partono prestissimo loro per dire recitano al liceo tanti hanno il corso come si dice il laboratorio di teatro al liceo quindi tipo in prima superiore che vuol dire avere 13 14 anni sono già sotto a affrontare un pubblico a imparare a recita e lì poi si scopre se gli piace quasi tutti i film americani quasi tutti i film americani quasi tutti gli attori vengono dall'actor studio l'actor studio non è un corso che tu fai pagando ti devono accettare cioè se tu hai già le basi ti migliorano se non hai basi non ti possono insegnare niente quasi tutti hanno l'actor studio allora pensiamo a una Catherine Zeta Jones che nasce come Bond Girl se vogliamo quindi piccole parti di Bona che fa la sexy bella è impossibile e in Chicago ci ha dimostrato di saper non solo recitare ma anche cantare e ballare alla perfezione tutti gli stili di danza cioè gli attori americani belli o non belli sono completi sanno fare tutto Justin Timberlake che poi ha fatto il cantante però veniva da una formazione completa infatti poi è andato a fare i film comunque se la cava insomma sì 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 ma per quello che ti dico sono sempre i bellocci americani sono comunque attori pensiamo anche al vampiro tanto criticato di Twilight no? che poi ti finisce a fare questi film come Lighthouse anche Cronenberg ha fatto ha fatto un film con Cronenberg sì tra l'altro ha fatto l'ultimo che non mi ricordo sì poi si è preso gli insulti per tantissimo tempo sei solo bello sei brutto sei stupido non sei i tuoi film che poi questo odio per Twilight esagerato cioè è un film commerciale sembra quasi che abbia ammazzato dei bambini cioè veramente c'è questo questo astio poi adesso per fortuna per lui si è tolto si è tolto di dosso questo peso di aver fatto Twilight sì ma anche ripetiamo sempre sta cosa come se l'attore è un lavoro se a me cioè Valeria Colino ha fatto è l'unica italiana che ha spopolato negli ultimi anni all'estero Valeria Colino sta in un film da Oscar con Dustin Hoffman che è Rain Man ma ha fatto anche Hot Shot che è un film comunque è un grandissimo film anche Hot Shot sì però non è che gli esce fuori il suo talento drammatico di grande attrice impegnata cioè parliamo di una che è nata con Peter Del Monte che ha fatto i film con Cristo Zanossi adesso è una produttrice di film giusto? anche regista anche regista di medio metraggi sì per quello che ti dico cioè non è che ah io so divina fantastica facci film d'autore e non vado a fare Hot Shot ci stanno attrici che ragionano così non so se ne parlavamo proprio in una tua diretta quando ho raccontato l'aneddoto della della donna più sfigata della storia del cinema credo che si starà ancora mangiando le mani che è quell'attrice che ha detto di no a Luchino Visconti per fare la madre di Tazio in morte a Venezia Luchino Visconti voleva una grandissima attrice del cinema italiano di quel periodo non si è mai fatto il nome quindi non si sa chi è per fare la madre di Tazio in morte a Venezia non l'attrice disse di no perché non era un ruolo parlato e quindi stiamo parlando che è una dei tre protagonisti del film cioè il film di morte a Venezia si basa tutto sull'amore di questo scrittore per questo giovane ragazzo che tra l'altro nel film appare tre minuti in tutto però si ricorda come no come è la madre di questo ragazzo che poi nel film fa Silvana Mangano quando si sparse voce che di sconti non riusciva a trovare l'attrice per questo ruolo Silvana Mangano che era una delle protagoniste dei film di Pasolini Coppa Volpi a Venezia insomma non è che stiamo parlando di un'attricetta disse per Visconti io anche gratis anche muta anche una parte piccola e lo prese lei il ruolo diventando parte della storia del cinema in questo film che è parte della storia del cinema quindi voglio dire ci sono attrici attori che magari ti dicono no io questo non lo faccio perché non vado a lavorare con Visconti perché non ho neanche una battuta e quindi non esce fuori il mio talento ecco un agolino ti fa Rain Man e poi ti va a fare Hot Shot che è un film totalmente una minchiata una parodia però è un lavoro fare lettori cioè come Nicolas Cage parlavamo no? si fa tante cose diverse fa cose ottime fa cose pessime lavora ragazzi fa quello che può cioè io voglio vedere chiunque di voi se vi dicono paganti se dite di no a tutti quei soldi cioè eh sì dipende da cosa ma voglio dire cioè anche le pubblicità insomma ogni tanto se devi pagare qualche mutuo di ville e macchine insomma fu attaccato a morte per esempio Banderas per la pubblicità del Munino Bianco no? ti ricordi che era un tabù che i grandi attori facessero le pubblicità e quindi le facevano solo in Oriente dove non venivano poi mai esportate adesso invece no adesso sta alla frutta per fare ah raga sta alla frutta io vi vorrei vedere voi alla frutta ma poi uno spot è un pomeriggio però pagato quasi come mezzo film tra l'altro non dimentichiamo non dimentichiamo che molti spot che molti non sanno sono diretti da grandi registi cioè io nell'ultimo periodo che parlavo con Deodato per esempio Deodato stava facendo le pubblicità per la guardia di finanza cioè erano spot interni al circuito quindi non erano cioè però stava lavorando per la guardia di finanza Sì Rugger Deodato quindi è passato dall'essere arrestato per il film a collaborare collaboratore di giustizia lo chiamerei esatto Fellini fece la pubblicità della Barilla Fellini fece anche la pubblicità di un amaro che era bellissima quella nel treno fece la pubblicità bellissima della Banca d'Italia Fellini le pubblicità della Banca d'Italia sono tra le più belle pubblicità mai fatte per esempio ha lanciato Anna Falchi Anna Falchi per la prima volta appare in questo spot della Banca d'Italia di Fellini in questo personaggio molto alla Milo Manara se mi dici Anna Falchi mi viene in mente solo la scena della tomba in Della morte e dell'amore sì era il Campari sì era la pubblicità del Campari la pubblicità della Cop che vedete anche online e non stiamo parlando certo di opere d'arte sono pubblicità di Gubiavati la Teron era la modella del Martini sì quel vestito che si sfila nasce praticamente quasi da lì Charlize Theron come modella e con il praticamente cioè brutto da dire però con il suo culo perché la gente si ricorda solo quello perché era veramente molto bella altro che Sherry Moon altro che Sherry Moon c'è proprio di stacuace Sherry Moon sì e aspetta tra l'altro abbiamo quattro minuti poi dobbiamo staccare sì c'è anche la pubblicità di Tinto Brass proprio con la Bellucci che era la pubblicità di un reggiseno se andatevela a cercare la Bellucci fa questa pubblicità di questo reggiseno o Calz o non mi ricordo cos'è comunque dell'intimo per la regia di Tinto Brass quindi voglio dire i grandi registi David Lynch fece la pubblicità della Barilla con Gerard Depardieu ma anche della Playstation quindi voglio dire la pubblicità può essere anche una forma di espressione però è un lavoro ragazzi cioè nel senso non è che Fellini si gli ha dato la sua impronta però per esempio Lynch nella pubblicità della Barilla non è che ha dato un tocco linciano alla pasta ha fatto semplicemente uno spot perché alla fine è lavoro cioè è lavoro è giustamente allora io ti ringrazio ancora per essere stato qua pure oggi vi ricordo che Domiziano c'è tutti i giovedì qua per parlare a ruota libera di cinema e svariati argomenti poi Dom ti invito magari se ne hai voglia anche se proviamo anche a introdurre un po' il mondo del cinema horror estremo perché tu sei un grande conoscitore a me piacerebbe siccome io ho un pubblico che comunque non è molto vicino a questo genere di film mi piacerebbe che le persone potessero scoprire quanto comunque dietro a questi film ci sono cioè non sono film cioè c'è tanto pregiudizio nell'horror ma c'è tanto pregiudizio anche per i film estremi come se fossero solo fatti per vedere cose perverse o torbide no però in realtà ci sono in tanti film estremi ci sono tanti temi interessanti quindi se ti va poi ma tu basta che chiedi ne parliamo tra l'altro ci colgo l'occasione in questi ultimi secondi per dire che oggi il giorno dei morti riesce su goredrom www.goredrom.com for Halloween giustamente nel giorno dei morti il mio film su Halloween ispirato da Halloween è un horror comedy di ispirazione anni 80 non è un extreme e basta così si anche a pevello goredrom adesso sono due siti che distribuiscono giusto uno è goredrom e uno è tetro video è una label che fa anche produzioni goredrom anche però goredrom è una sotto label di tetro video rivende anche film di terzi è un negozio a tutti gli effetti e diciamo spazio su generi anche differenti mentre dato video si focalizza un pochino di più sull'horror estremo comunque vi invito a farvi un giro poi chiaramente se non riconoscete trovate qualche mia recensione non tutte però qualche recensione l'ho fatta poi potete venire in live e chiedere del film che vi incuriosisce prima di magari di comprarlo venite qua e chiedete così se ne parla perché comunque è un genere è un genere che ha una sua importanza ma non ha diciamo come sappiamo non è così in vista perché è un genere difficile e venite tutti su youtube sotto il link di questa live a difendermi dagli attacchi degli argentiani che si scateneranno speriamo insultandomi perché ho osato toccare il maestro però cioè non è che ci può piacere tutto ripeto a me non piacciono anche molti film dei miei registi preferiti che sono per esempio Carpenter o Fucci cioè quindi voglio dire ognuno fa di buono e cattivo non mi piacciono ma con tutti i miei film figuriamoci se a me devono piacere pure quelli degli altri quindi mi raccomando seguite il canale youtube punto esclamativo youtube saluto domiziano ci vediamo giovedì prossimo grazie mille e intanto noi andiamo a fare un ride a qualcuno ciao dom ciao a tutti ciao ciao a tutti 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 ciao a tutti